Buongiorno, questa luce è troppo vicina, così, si vede ancora un pochino ma vabbè. Buongiorno, stamattina abbiamo un po' di cose da fare, vediamo cosa riusciamo a fare. Sono un po' in ritardo rispetto a quello che mi ero professata di fare ma siamo fiduciosi. Allora, intanto che arrivate prendo il caffè, poi vi faccio vedere l'albumino che faremo qui il 14. Ho un po' di cose da farvi vedere. Buongiorno. Allora, qualcuno di voi ha già visto che ho pubblicato l'articolo contenitore sul sito dove ci sono tutti i materiali usati per l'album che faremo il 14, quindi non questo sabato, il prossimo, che sarà l'ultimo corso prima di Natale. Intanto beviamo il caffè. Buongiorno, eccovi qua. Allora, sì. Adesso vi faccio vedere prima l'album, poi facciamo, oggi facciamo il My 12 Days. Iniziamo il progetto che vorrei fare tutti i giorni da qui a Natale, vediamo se ce la faccio. Proviamoci. Allora, iniziamo dall'albumino che è realizzato con la collezione Winterfarm House della Simple Stories, che è meravigliosa. Allora, adesso spostiamo un po' di cose qui, perché così vi faccio vedere bene lui. È un tab album, avevo visto una cosa del genere su Pinterest, ovviamente. Mi era piaciuta molto e l'ho replicata così. Ho disboscato l'Amazzonia per costruire la struttura, purtroppo, perché con le misure sto messa sempre come sto messa. Però alla fine più o meno abbiamo trovato una quadra. E allora, l'album è fatto così, ha questo contenitore, che è semplicemente rivestito, abbiamo usato quel cartoncino vegetale, e dentro ha queste pagine che sono dei tab, quindi hanno questo tabbino qui che permette di prenderli. Vi faccio vedere le pagine. Sono appiccichini, niente di più. Io non ho messo le foto perché non ho ancora delle foto invernali che avesse senso mettere in questo album. E lo faremo il 14, un turno al mattino e un turno al pomeriggio. Questa collezione è bellissima, invernale, non praticamente natalizia. Ops, questo qui, per esempio, mi è scappato. Aspettate che, dato che ci siamo, gli mettiamo un puntino di colla a questo cibor per uno, che sono riuscita a spellicolarne. Voilà, e lo mettiamo qui così. Perfetto. Le pagine potranno essere fatte a sentimento, insomma, una volta che facciamo la struttura, la parte divertente sarà poi semplicemente decorarla, come vi piacerà. Lo replicherò nel live del 15, quindi la domenica mattina, del giorno dopo il corso. E vi ho messo l'elenco dei materiali. In realtà ci sono i bazil per la struttura, il cartoncino vegetale, due fogli di carta 30-30, il pad 6x8, i day cut, i chipboard e il foglio di sticker, quello 12x12. E tutto un appiccichino, ho finito quasi tutti gli abbellimenti nella foga del appiccico tutto, però mi piace veramente tanto. Sì, io sono più un tipo d'autunno, ma questa collezione qua mi aveva veramente colpito tanto, quindi, beh, questo qui sarà il mio corso natalizio. Sì, queste carte sono meravigliose. Vabbè, è difficile trovare qualcosa che faccia la Simple Stories che non ci piace. Fac! Ti ho messo anche la tazza. Se vi va, allora, sul sito, tra le novità, trovate questo come prodotto contenitore, dove c'è l'elenco di tutti i materiali. Ah, ecco, in più c'è un foglio di questo qui, che è la collezione della carta basic della Winter Farmhouse, da cui ho ricavato questa cornice con le due fustelle di Moda Scrap dei Dashing Rettangles. Potete tagliarle anche a mano, ma a me piace talmente tanto questa impuntura, che ovviamente l'ho tagliata con la fustella. Cibboard eye cut, foglio di sticker, il pad 6x8 e due fogli, io ho usato questi qua, il Cadolap, per il rivestimento. Tutto, non ci serve altro. E faremo il corso il 14. Allora, prima di fare altro, facciamo il Metal Tales di novembre. Allora, tiriamo fuori il kit. Qui c'è la mia foto, c'è l'insieme delle sei foto che ho deciso di mettere per questo mese. Gli seddi timbri che ho già usato, e quindi togliamo questo, che lo salviamo, poverino che è nuovo. Lo mettiamo lì, e tiriamo fuori le carte. Non so come farò a tagliarla questa carta, ma adesso ci ragioniamo insieme. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo il kit con gli abbellimenti, ci sono due charms, delle foglie, del nastro di juta, e delle mezze perle, crema e marrone. Marrone perlato, poi le tiro fuori e ve le faccio vedere meglio. Poi questa è la carta, che sarà la base. E poi ci sono due fogli in tinta unita, che sono della marca Florence. Questo è il mustard, e questo è il cassis, che secondo me erano perfetti in abbinamento con i colori della carta. Quindi, bene, così poco. Questo lo si farà da solo in pochissimo, praticamente, perché adesso la cosa più difficile sarà tagliarmi la carta a misura, perché io ovviamente faccio tutti i my twelfthels in A4. Che ideona, Clelia è brava. Le carte le faccio tutte in trenta per trenta, perché ovviamente c'è chi tra voi non è un December Daily, perché l'album che ho fatto con la collezione Winter Farmhouse è invernale, non è praticamente natalizio, quindi non è un December Daily, ma è un album per raccogliere le foglie, sì, le foglie, i ricordi dell'inverno. Allora, io devo portare questo foglio qui a misura di modo che sia un A4, quindi un 11 per 8,5, e non so come farò, perché non so che cosa tagliare. Allora, 11, devo tagliare un pollice in altezza, potrei tagliare mezzo pollice da qui. Che fatica! E mezzo pollice da qui. E poi devo farlo diventare 8,5. 8,5? Che ridere! Allora, togliamo un pezzetto di macchie, che potrebbe essere una cosa così, quindi potrei già togliere uno o qualcosa di qua. 8,5. Uh, no, troppo! Non posso togliere tutto, poi togliamo ancora un pezzetto di macchia. Mmm, la difficilitudine! E questo mi deve diventare 8,5 in larghezza. Madonna, devo togliere tutta questa roba qui? No, allora, sacrifichiamo un altro pezzetto di macchia. Eh, per forza, sacrifichiamo così tutte le macchie che mi piacevano così tanto. Vabbè, 8,5 è quasi perfetto, perché mi piace di più che rimanga questa parte qui. Ok, questa è la mia base. È faticoso ricavarla, però tanta indecisione, ma vabbè, è lei. Allora, questa carta qui la possiamo accantonare. Mi devo tagliare anche la base di Tommaso, che adesso prendo, dalla stessa misura. Perché li metto tutti lì. Adesso qui non ce l'ho più. Mi avvicini l'album con tutti gli altri, così lo faccio vedere. Allora, 11, qui è più facile. Quello dove ho tutti questi layout, quello marrone, per 8,5. Questa sarà la mia base. Aspetto ad incollarlo, perché in realtà io vorrei far passare il nastrino qui, per fare venire i due charms qua. Allora, tagliamo le foto. Questo layout, cioè, questa carta a me piaceva così tanto che metterci sopra qualcosa mi risultava già molto complicato. Quindi adesso mi taglio tutte le mie foto, che sono 6, e vorrei che ci stessero tutte 6. Allora, poi vi faccio vedere l'album con tutti i tails. Voilà. Tra l'altro, intanto che taglio, vi dico, per chi mi sta chiedendo per il rinnovo dei tails, funzionerà così. Adesso si genereranno gli ordini di dicembre, i kit saranno pronti verso metà mese. In realtà i timbri questo mese mi arrivano molto in fretta, li ho ordinati prestissimo, perché vorrei spedirvi tutto prima di Natale. Per chi ha gli ordini che si generano dopo, vediamo come fare, se piuttosto non far generare quell'ordine lì e fare un ordine custom a parte. Questo ce lo vediamo un po' persona per persona. Per l'anno prossimo lanceremo l'abbonamento, questo mi servirà a farlo a dicembre, per capire quanti saremo per il 2020. Quindi ci si prenoterà facendo l'ordine, che fa partire l'abbonamento e paga quindi il kit di gennaio, verso metà dicembre. E i kit spero di riuscire a tenere il giro, ma dovremmo, perché ho già pronti diversi dei sedi timbri, che sono la cosa che mi porta via più tempo, dovremmo riuscire a spedirli sempre verso metà mese. Quindi il mese precedente si genera l'ordine per il kit del mese successivo. Allora, questo ombrello rosa non ci sta benissimo, però vabbè, non importa. Allora, io le mie sei foto le vorrei tutte e le vorrei anche mattare un pochino. Potrebbero essere una cosa così. Allora, provo a stringerle ancora di mezzo centimetro su ogni dimensione, di modo da avere una mattatura ancora più piccola. Dovrei riuscirci. Vediamo. Comunque, a dicembre, appena ho il prototipo del primo kit, ve lo faccio vedere. Del primo kit dell'anno nuovo. Ve lo farò vedere. Così che possiate decidere. E questa come la taglio di qua. Quindi adesso le mie foto sono tutte 4,5x4,5, quindi dovrò fare delle mattature 5x5. Ne farò tre di un colore e tre di un altro. Alla fine la logica con cui faccio questo tipo di disposizione è sempre la stessa. Vi mando tutto via mail. Allora, per chi è già abbonato, manderò una mail con tutti i dettagli, perché cambierà proprio la piattaforma su cui faccio questi abbonamenti. Quindi in realtà sarà una modalità un pochino diversa. Si genereranno sempre gli ordini da soli, però dovrete effettuare il pagamento manualmente. Ma poi ve lo spiego. È semplicissimo, ma funziona meglio di questo che ho adesso. Sarà sempre 20 euro. 18 per chi ha la Fidelity. E si potrà fare anche l'abbonamento solo ai timbri. Ma vi spiego tutto. Appena ho tutto qui, ve lo dettaglio. E qua mi taglio via mezzo centimetro di qua. Ok, qui lo tagliamo dalla parte dell'ombrello. Ok. Buongiorno. No, ma vi scrivo, tranquille. Anche perché adesso quando si genera il nuovo ordine, contestualmente annulliamo l'abbonamento in essere, che dovrebbe già annullarsi da solo, ma per sicurezza lo annullo manualmente. E comunque appena ho, e dovrebbe essere in realtà a giorni, appena ho tutto il materiale del kit di dicembre, comincio ad avvisarvi. Quindi chi vuole che lo spediamo subito, gestiamo l'ordine dell'abbonamento in maniera diversa. Ma questo poi ve lo spiego. Allora, ho qui le mie fotine, che sono bene o male tutte 4,5x4,5. Adesso devo tagliarmi le mattature. Non sono proprio tutte 4,5x4,5, perché non combaciano, ma questo è un altro discorso. Allora, quindi mi taglio da qui una striscia 4,5. Devo fare un'altra cosa, prima che mi sono dimenticata, ma adesso taglio queste strisce e lo faccio, perché mi serve per il pezzo del progetto dopo. Me ne servono 3,3. 4,5. Sì, mi basta. Ok. E poi un'altra striscia, questo è il mustard, e questo qua è il cassis. Della Florence. E mi taglio le mattature. No, ho sbagliato, devono essere 5. Vabbè, in realtà alcune sono più piccine. Potrei anche tenerle così, in realtà. Guardate che nell'errore, alla fine, così sono più piccine, ho più spazio per la carta. Potrei non mettere... È arrivato il Grinch. Gian Maria, lavoriamoci su questa cosa. 4,5, 4,5. Eh, si saranno più grandi, perché ovviamente un pezzo della... Non sarà stato 5x5 perfetto, perché un pezzo, se lo sarà mangiato la selfie, nella cornice. E quindi va bene. Adesso poi vedo come disporle, ma... Ok, questa per esempio sta bene qui. Adesso vedo come... Per esempio questa qui la vedo meglio qui sopra. Questa qui sopra. Questa qui. Qui sopra. Questa. Magari così. Così. Ok. Quelli lasciamo di un attimo. Devo fare una cosa per il pezzo dopo, per cui voglio fare il progetto che mi porterò avanti per tutto dicembre. Accantoniamo un secondo queste qui. Ho preso un pezzetto di carta da forno. Così. Lo stencil delle stelle di Tommaso che trovate sul sito. Ho una spatolina e mi ero presa i brilli gel. Eccoli qua. Questo è il polvere di fata. Potremmo usare anche l'oro lucente che è molto, molto bello. Quello nuovo. Credo che in realtà per quello... per il modo in cui intendo di usarlo io, non sono uno che faceva l'omeno male. Per il modo in cui intendo usarlo io per gli accostamenti che ho preferisco il polvere di fata. Ne prendo un po' e faccio un po' di stelline. Ne ho preso troppo se mi vedesse bottalico. Faccio un po' di stelline. Questo qui è lo stesso stencil che ha usato Marica per il calendario dell'avvento del progetto del video bundle. Allora. Le faccio qui su carta da forno perché facendole qui su carta da forno poi queste stelline si staccheranno e potrò usarle come abbellimenti da incollare. Vi faccio vedere una cosa che avevo fatto tanto tempo fa però magari insomma da allora qualcuno c'è qualcuno di nuovo che non sa che si possono usare anche in questo modo i brilli gel. Non mi serviranno tutte queste stelle che una volta che inizi a farle poi vorresti farle tutte. le lasciamo così prendiamo le salviette che sono ne avevo anche portate le salviette dove le ho messe e poi un altro discorso. Aspettate che le recupero. Puliamo lo stencil e questo qui lo mettiamo via lo metto per terra così intanto che faccio il lot dei My 12 Tales lui si asciuga. Questo poi lo laviamo anche sotto l'acqua però per ora è sufficiente così. Puliamo anche la spatola Allora questo lo mettiamo qui questo lo mettiamo qua e ricominciamo con il lot vi diamo solo una pulita con lo scompezz a posto. Allora eravamo arrivati qua prima che mi dimenticassi che dovevo fare anche quell'altra cosa lì allora incolliamo le foto sulle loro mattature allora avevo deciso che questa andava qui questa qui questa sul rosso anche questa con abs che sorpresa che ci ha fatto abs due venerdì fa mi sento chiamare e me lo vedo lì e questa qui ok incolliamole così ce le ho pronte si possono asciugare i brilli con le boi si può si può accelerare un pochino l'asciugatura però in realtà io ne ho dato uno strato talmente sottile che non occorre che non occorre però un pochino si si può accelerare io consiglio sempre se potete di lasciarli asciugare naturalmente però se abbiamo fretta un pochino una mano gliela si può dare così se uno volesse mettere meno foto potreste farlo io ho deciso che saranno sono state praticamente sempre sei forse una volta sola cinque manie che non ci volete fare non siete obbligati ho visto tantissimi l'ho anche fatti solo con una foto queste le spessore erei potrebbe essere una cosa così qui eravamo all'escape room è scurissima la foto però è un bel ricordo quindi me la tengo potrebbero essere una cosa così così da non intaccare da intaccare il meno possibile allora quello che volevo fare io con quello per cui avevo preso i charms e che avevo in mente di fare era passare uno dei due o tutti e due adesso lo vedo i charms sono questi sì anche sotto acqua e sapore il fluffy rosso te lo tieni sullo stencil credo purtroppo perché è anche sulle mani per un certo numero di giorni è potentissimo il colore il pigmento del rosso quindi lo so io ho fatto i miei stencil sono diventati tutti rosa che non è che mi dispiaccia però allora io volevo far passare questo qui dietro forse due sono un po' spessi in realtà la mia idea era di fare due forellini e di far uscire qui questo per fare il fiocchetto potrei andare a prendere la mamma mia andresti a prendere la big bite per fare i buchi quella blu come non hai foto di novembre già Maria non si dice allora intanto prendiamo lo spessorato perché le foto le attaccherò tutte con un briciolino di spessorato questo qua sottile solo per dare loro un pochino di di corpo ma ne metto una qui questa carta mi piaceva così tanto che all'inizio ero partita quasi per non mettere nessun tipo di abbellimento poi però sembrava brutto ed era un kit con così pochi abbellimenti ma questa carta era così bella me lo dico da sola chi si loda si imbroda però mi piaceva così tanto no non è sbagliato niente è proprio solo potente quel colorante quindi rimane così tac mi piaceva così tanto che non ero proprio tanto dell'idea di metterci altro sì quella lì adesso facciamo i fori questa la mettiamo qui questa qui lasciamela lì adesso quella prendo così e poi anche questo fiore qua non è che vorrei proprio coprirlo quindi potrebbe essere il primo lo senza foto lei la mettiamo qui e questa possiamo anche collocarla lì può andare va bene così qui sotto mi rimane lo spazio per il fiocchetto dovrò decidere dove mettere il sentiment potrebbe essere qui perché non voglio coprire è tremendo va bene questo lo dobbiamo coprire per forza che lei li rassegnati ok così adesso io vorrei fare due forellini qui circa e li faccio assolutamente ad occhio col foro più piccolo che dovrebbe bastare secondo me per far uscire poi se non dovesse bastare allora teniamo indietro questo potrebbe essere uno qui e l'altro qui vediamo allora la mia idea sarebbe di passarne due non so se ce ne passano due al limite deciderò per uno non ci passeranno mai due Clelia un po' di sforzo ok allora facciamo passare l'altro capo e poi deciderò quanto tagliarne perché ve ne ho messo una dose cioè ne abbiamo tagliato una dose abbastanza abbondante fin troppo però poi magari con questo ci fate anche altro quindi questi sono i fili di juta della Vaisen ok allora a me serve che qui davanti ci sia abbastanza spazio per fare un fiocchetto quindi una volta che io mi taglio una cosa così dovrebbe essere più che sufficiente abbondiamo un pochino buongiorno a chi sta arrivando adesso Mari che sei sopravvissuta al Black Friday pora donna ok allora annodo e faccio un doppio nodino poi prendo i miei charms e ne metto uno in uno oppure potrei prima fare ma potrebbe anche essere carino io a fare i fiocchi non sono particolarmente brava vediamo che cosa ne viene fuori però facendolo al contrario di solito mi vengono meglio questo poi non entrerà mai nel page protector no allora più che il fiocchetto forse mi verrebbe meglio il nodino però perché ho già fatto due nodi quindi è molto spesso per quello quindi magari ne sciogliamo uno e lo rifacciamo potrei scioglierne uno e mettere un punto di colla facciamo così qui sotto voilà e lo teniamo fermo un attimo solo pacchetti eh immagino immagino allora poi lì eh qui ci vorrebbe in realtà un bel punto di colla caldo ma vediamo dopo magari allora lo faccio stretto stretto e poi lo allargo ok può andare una cosa così io voglio la colla qui sotto voilà teniamolo lì fermo un attimo e io andrò a mettere i miei charms qui dentro spero che ci stiano se no l'incollo diversamente allora per farlo vediamo se ci passa ovviamente la risposta è no ma noi facciamo così perché siamo più testardi allora voi due grinch smettetela subito che io invece sono veramente in pieno natalizio ok uno è qua e l'altro lo mettiamo qui sopra questo qui è più piccino quindi secondo me sarà difficilissimo questo qui ha il foro troppo piccolo non lo passerò mai abbiamo del filo nero arancio marrone filo sottile no questo non ce la posso mai fare non ce la potrò mai fare allora per formare questo faccio un nodino e poi lo taglio lo lasciamo lì così e questa in realtà potrei anche solo incollarla qui così è troppo questo forellino qua è molto più piccolo eh ma è tanto spesso anche se metto la colla adesso se possono mettere le gif nei commenti morirò posso infilarlo qui e far finta che posso incollarlo potrei far finta che sia infilato invece non lo è molto semplicemente ok questo lo farei passare qui sotto e questo qui io in realtà lo incollerei qui così vediamo come studiarcela questo in realtà sì magari li leghiamo tutti e due così intanto che mia madre ah e poi mi serve anche la valigetta con gli altri timbri me la dimentico sempre ma non mi avrà mica sentita vabbè allora intanto il nostro fiocco oh ma questo lo ho disfavuto no dobbiamo rifare il fiocco Clelia si vede che non fa i pacchetti di Natale eh vabbè rifacciamo scusate tac avevo completamente sdrenato una delle pancette del fiocco allora io le stringo sempre e poi perché mi è venuto così male no? rifacciamolo riproviamo così o se no io faccio anche solo fatemi fare una prova così ho lasciato molto lungo che non mi rende non mi facilita la vita però a me non dispiace neanche solo così senza il fiocco forse per come sono in grado di fare i fiocchi io è meglio e questi li possiamo tagliare così e li mettiamo qui appena mia madre mi porta il filo questo glielo leggo qua glieli leggo qua sotto potrei anche incollarli in realtà però mi piaceva che avessero un pochino di gioco quindi adesso questo lo vediamo dopo dunque io ho ancora nel mio chittino le mezze perle le più belle allora queste perle sono un po' perla e un po' marrone e quindi stanno bene con queste nuance prima di metterle però faccio le timbrate dei sentiment allora il set di timbri allora qui ho un pezzo di cartoncino di Tommaso che mi ha avanzato da come ho fatto i tagli inizio a pensare ok perfetto sì è nero quello lì è un po' scuro ma vabbè lasciami tutto qua sì sì lasciami tutto qua allora iniziamo a fare le timbrate prima avevo qua il mio blocchetto d'acrilico che avevo preso eccolo qua allora in realtà il sentiment principale che per me sarà questo in inglese be thankful every day sì riconoscente ogni giorno forse potrei anche semplicemente timbrarlo qui che ci sta bene in nero per evitare siccome questa carta è molto bruttoluta per evitare pasticci prendi una platform eccola qua vedo l'ora del 7 gennaio oh non mi piace tanto il natale vabbè ok mettiamo qui be thankful every day e prendiamo il nostro solito over quello con cui vi trovate meglio perfetto allora è proprio un po' così è poco definito quindi adesso io provo di nuovo per la L che è un pezzettino in più ma è proprio così perfetto ok e questo è fatto prendiamo la salviettina puliamo qua e adesso facciamo il timbro del MyTwellTaste del 2019 ecco cos'è che non ho pensato di fare nel timbro di gennaio ci serve la scritta del MyTwellTaste li ho già mandati a campionare me ne sono proprio dimenticata adesso lo correggiamo tanto ho fatto fare solo i campioni allora qua poi qui sopra con il Natale e con una serie di altre cose non è che mi limito al Natale allora prendiamo il set di timbri non è questa sai la valigetta è l'altra quella dove c'è il set di timbri di gennaio aspettate che mi sono persa il set di timbri di gennaio ma intanto che mia madre lo cerca questa è la nostra base mi faccio le timbrate delle scrittine quelle le posso fare tranquillamente col blocchetto di acrilico allora io le faccio in inglese e le mettiamo qui e le scriviamo mi piace solitamente che ce ne sia una per ogni frasetta non sempre però di solito li penso facendoli così i set di timbri poi per le risate e anche le lacrime in inglese ok poi ci mettiamo si riconoscente per te stesso for your own beautiful self che tradotto in italiano non si può sentire lo ritimbriamo perché non mi è venuto benissimo perfetto for your foolish friends direi che ci va vista la cosa all'escape room guardate che ho incurvato il timbro tac rifacciamo for the foolish friends perfetto questo è il filo questo è il filo niente poi save the love in your heart conserva l'amore nel tuo cuore che ci sta e poi questo lo mettiamo dal posto giusto never forget non dimenticare mai queste saranno le mie 6 tendenzialmente poi se non le uso tutte 6 non importa però ok adesso faccio una pulizia generale della plancetta così così perfetto mi è proprio passato di mente di fare il timbrino sul set di gennaio ma adesso lo sistemiamo allora rimediamo cerchiamo il timbro dei Michael Taze così da quello di gennaio così da timbrale se lo trovo oh mamma forse è il caso quindi raggruppi diversamente l'idea della scatola no non è neanche ah deve essermi rimasto allora sono un po' sparsi quindi li metto il face non è cioè veramente non c'è no non c'è qua allora tanto siete abituati vi abbandono con un secondo vado a prendere il set di gennaio dove abbiamo il timbro eh dei Michael Taze arrivo non c'è Grazie. Grazie. Scatolone. Vi intrattenete da soli, bravi. Perché ero assolutamente certa che fossero tutti in un posto solo e invece no. Bravissimo che non li trovo più quelli di gennaio. Impossibile. Anche quelli dei mesi. Allora, quelli dei mesi posso rimediare poi, ma... Quelli di gennaio. Ma veramente? Allora. Oh, sentite. Facciamo così e tagliamo la testa al toro. Apro un set nuovo di gennaio e quindi magicamente si materializzeranno. Ma vediamo se sono ancora qui, questo è febbraio, marzo, giugno, aprile, teorio, storia. E poi con il canto gennaio, ovviamente. Ma non ci posso chiedere, mi mancano anche i mesi. Ma i mesi ancora ancora. Invece questo ci serve. Babbo Natale che ruba tutto. Sì, può essere. Vabbè. Facciamo così. Poi adesso mi riprometto di mettere tutti i timbri dei MyTwellTales in un solo posto. Giuro. Allora. E i mesi poi li cerco. Perché adesso i mesi credo di averli finiti, ma poi... Il mese mi preoccupa meno. Adesso poi lo cerco con calma. Allora. Perfetto. Puliamo. Anche il dito. Tac. E questo è a posto. Poi. Insegnate altri, certo. State delirando? Che commenti mi sono persa dei pezzi fondamentali? Ok. Allora. Mettiamoli qua tutti insieme. Che poi facciamo una bella scatola dove ci sono i timbri dei MyTwellTales. Allora. Vediamo un attimo. Così. Poi togliamo questo da qui. E tagliamo le frasette. Che così le andiamo a disporre. E questo praticamente poi è già finito. Tagliamo queste. Questo qui lo mettiamo via. Poi attacchiamo i charms. Allora io questi li dividerei così. Così li taglio uno ad uno. Uno. Due. Uno e due. Ok. Poi anche questo. Questo non mi era venuto benissimo. Infatti l'avevo timbrato due volte. Quindi adesso prendiamo solo quello che è venuto bene. Se ti ritrovi il mio set di timbri coi mesi. Vabbè. Io ti do un compito. Vedi tu. Adesso. Questo. Poi. Questi altri qui. Tagliamo. Più o meno qua. E tagliamo anche loro. I bordi laterali li taglio poi semplicemente con le forbici. Così. 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 E l'ultimo for the foolish friends. Ok. Allora. Questi li possiamo buttare. Voilà. Allora. Tagliamo qui. Anche questi non ci servono più. Allora. Inizio a fare il progetto di Natale, Gian Maria. Che sarà una cosa che faccio tutti i giorni. Adesso dicembre. Sarà una cosa. Sarà proprio solo una sorta di boh. Quaderno degli spunti. Non è un December daily. Oggi farò la copertina per esempio. Quindi non saranno 25. Poi magari vado avanti anche dopo Natale. Non lo so. Vediamo. Potrebbe essere un'idea da fare ogni 25 del mese. Boh. Adesso vediamo. Questo. No. Questo. Ok. Allora. Mio madre ovviamente l'ho detto di cercarmi così dei mesi. Sta facendo il dal bianco. Piuttosto che cercarmi il timbro dei mesi. Guardi se lo trovi. No. Vabbè. Proprio l'aiuto. È un aiuto. La licenzierò. Cosa ci volete fare? Allora. Questo lo mettiamo qui. Avrei potuto timbrarli anche direttamente sulla carta. In effetti non ci ho pensato. For foolish friends va a finire proprio qui. Never forget. Qua. Save the love in your heart. Lo mettiamo qui. For the leftovers and the tears. Lo mettiamo qui. E poi mettiamo semplicemente queste. Un po' di mezze perle. Dove ci piacciono? A me piacciono molto gruppetti di tre. Ma lì è a gusti. Potete fare anche delle macchie. Potete fare dei n'uovo. Insomma. Come vi piace. Così. E poi leghiamo semplicemente. I due charms. Ma c'è ancora questo. For your own beautiful self che si è staccato. Tac. E lo mettiamo qui. Allora. Questi qui abbiamo un filo nero. Che cercherò di fare in modo che si veda il meno possibile. Ne tagliamo un pezzetto. Lo facciamo passare. Passare. Qui. Tagliamo meglio magari. Così. Gianmaria non credere. Non saresti felice. Ecco. Cercare di mettere questo. Guardando attraverso il telefono. È molto sfidante. Sì. Così. Perfetto. Ok. Allora. Così. Lo faccio passare qui sotto. Poi gli metterò un po' di colla per fermarlo. Guardate. Qui. Mi faccio fare un paio di giri. Oppure faccio semplicemente uno di... Ma facciamo fare un altro giro. Va. Così. Un pochino più fermo. E adesso qui facciamo un nodo. E poi lo fermo con un puntino di colla. E i miei due charms sono fermi lì. Ancora un nodino. Tanto questo filo, questo è filo da cucito. È sottile, sottile. Quindi non si pone il problema. Ok. E tagliamo. Così e così. Le forbici di team forse per il filo non sono la cosa migliore. Un goccino di colla. Che tanto poi diventa trasparente. E quelli rimangono lì. E questo è fatto. Lo attacchiamo solo sulla base. Che avevo preparato. Qua. Così che è a posto. Qui ho collo, biadesivo, quello che insomma vi è più pratico. Poi cercherò i mesi. E aggiungerò la timbrata dei mesi. Dopo, prima di fare le foto. E questo è a posto. Ed è fatto. Ah, sì, sì, assolutamente. Altra vita, ma sì. Fissiamolo bene. E questo è a posto. Fissiamolo bene. Vuol dire aspettare che si incolli. Avrei potuto mettere biadesivo. Questa carta è un po' più spessa. Quindi la colla ci mette un pochino di più. Però questo qui è il mio lò di novembre. Scusate. Adesso, visto che non possiamo mettere i mesi perché non li trovo e non me li cercano, prendiamo questo quaderno che ho recuperato da non so neanch'io bene dove, in craft, ad anelli. Non è sicuramente una cosa americana perché era il nostro passo. E ho pensato di fare qui dentro questo progetto che farò tutti i giorni nel periodo di Natale. Oggi farò la copertina che vorrei che fosse molto veloce. Ho fatto le stelline, vediamo se sono asciutte, apposta per usarle come elementi decorativi. Ancora no. Beh, quasi. Guardate. No, non ancora. Lasciamo perché vedete queste si staccano e poi le possiamo usare come elementi. Però dobbiamo lasciarle ancora asciugare un pochino. Intanto ne approfittiamo per fare il resto. Qui voglio rivestire questa copertina con le mie carte. Praticamente mi ero fatta l'idea di usare la carta numero 6 come base da taglio della misura. Adesso misurerò tutto. E poi volevo fare dei dettagli sugli angoli, ritagliando il vellum, sempre di questa collezione, e ritagliare un paio di ghirlande di moda scrap da mettere al centro. Ora, iniziamo passo passo e misuriamo. Allora, qui sono 22,4 per 20,8. Tagliare un pochino. Tagliare un pochino. Allora, tagliamo il primo pezzo qua, che non mi serve che abbia questa parte qui perché lo voglio intero. Tagliamo anche questa. Quindi, anche qui va. Mi è caduto il vellum. Allora, 22,4. Dicevamo. E mi sono assolutamente dimenticata l'altra misura. 22,4 per... Era 20,4? No, 22,4 per 20,7. Vediamo un po'. Sì. Perfetto. E questa posso incollarla già così. L'encollo col bioadesivo così sta ben ferma da subito. Allora. Allora. Così. E così. E quindi, da questo lato, no, così. La copertina davanti l'abbiamo già bella che sistemata. Magari se poi l'encollo dritta è meglio. Facciamo così perché io ho preso la misura da qui. Perfetto. Ok. Perfetto. Ora. Mi servono un paio di angoli di vellum. L'idea sarebbe di ritagliarmi questo pezzo qui, fino a qui, anche fino a questo. Ma potrei ritagliare anche tutto quest'angolo qua, in realtà. E qui un altro angoletto. E al centro la ghirlanda. Allora. Tiriamo fuori questo pezzo che mi serve. Così sono più comoda per ritagliarlo. E prendiamo le forbicine, però, di precisione, perché queste qua sono un po' troppo grandi. Potrei anche provarci, perché con quelle viti molze alla fine riesco a tagliare la qualunque. Forse le abbiamo spostate. Eccole qua. Ecco qui. Allora. Tagliamo. Lascio dritto il bordo che andrà sul bordo del quaderno. Questi quaderni, tutti i craft, sarebbero belli se ci fossero. Ma, magari li cerchiamo. Questo non ho idea di preciso da dove arrivi, perché l'ho ritrovato in casa. In uno dei rari momenti, rarissimi momenti di decluttering. Però, magari se vi piace, mi metto alla ricerca di... Allora, qui poi tagliamo un po' meglio i rametti. Così. Questo lo tagliamo così. Quindi, qui, tagliamo via questo pezzetto qua. Ok. E questo potrebbe essere questa parte qui. Poi, qui sotto, vorrei ancora un pezzetto di fiori. Devo prendere per forza questo angolo qui. Facciamolo più piccolo. Tagliamo questo pezzo qui. Vediamo. Tagliato brutalmente così. Allora. Qui tagliamolo con la taglierina, va? Che ne approfitto. Un bordo dritto. Non riuscirò mai a tagliarlo dritto così, se no. Allora. Proviamo a tagliare senza i rametto. No, il raccoglitore è un A5. Però non ha il passo degli anelli americani, perché ho provato. Quindi deve essere di produzione qui, ma non so di preciso da dove arriva, perché ce l'ho in casa da un sacco di tempo. Oggi l'ho ripescato. Ok. Una cosa così. Voglio ritagliarmi. Forse questo in realtà potrei anche accorciarlo un pochino e farlo diventare più piccolo. Proprio che sia un angoletto. Perché qui, oppure accorciare un briciolo questo. Adesso vediamo. Perché qui vorrei mettere una ghirlanda. Allora, per la ghirlanda, mettiamo un attimo via questa, avevo fatto un passaggio qui con l'acqua nera. L'acqua adesiva nera di Tommaso, il medium per i remida. Adesso prendiamo l'oro rosa. E la remidizziamo. E poi tagliamo un paio di ghirlande di moda scrap e un paio di rametti. E vediamo di comporre questa ghirlanda. Questo è l'oro rosa. Si usa il pennello MOP. E semplicemente lo andiamo a depositare. In questo caso acqua nera e acqua bianca è indifferente. Io mi sono ritrovata prima il boccettino dell'acqua nera e ho usato lei. Ma ne ho steso uno strato sottile, sottile. Perché volevo che si asciugasse in fretta. E adesso semplicemente distribuisco il mio pigmento. Ho pensato che l'oro rosa fosse forse quello che stava meglio. Non farò la ghirlanda tutta oro rosa, ma la taglio in diversi colori. Adesso vi faccio anche vedere le carte che ho preso. La tagliamo due o tre volte. Adesso mi porto qua la big. Dovrei riuscire. Passiamo questa. Ed è perfetta. Ok. Ovviamente adesso abbiamo di nuovo remi dovunque, ma ci mancavano. Era un po' che non li usavamo, quindi va bene. Allora. Ci vorrebbe lo Swiffer. Poi lo andiamo a prendere. Dunque, prendiamo la big shot. Mettiamo via questo stencil che adesso tanto non ci serve più. Le colline le mettiamo su in modo da non metterci sopra i piedi. Il righello lo teniamo qua. Spostiamo un po' di cosine così faccio posto alla big shot. Dovremmo farcela. Eccola qui. Prendiamo il suo cavetto. E siamo a posto. Ok. Vediamo se funziona. Sì, perfetto. Allora. Innanzitutto tagliamo da qui la ghirlanda. Ne userò poi un po' di rametti di un colore, un po' di rametti di un altro. Allora. Tagliamo la ghirlanda intera. Siccome ho spazio, e credo che questo passi, non passa proprio tutto, taglio i due bordi estremi, ma mi taglio anche qualche rametto singolo, che nella fustella avete, per arricchire la composizione. Tagliamo questa. E questo rametto grande qua. E magari anche questo, va. Tanto ci sta, per quel che mi costa, li passo insieme nella big, in un unico colpo. E tagliamo. Magari con un piatto solo, Clelia, però, perché hai già la platform. Voilà. Faccio passare due volte, perché sto usando il cartoncino di Tommaso, che è molto spesso. Ok. Vedete? È bellissimo. Tiriamo fuori la ghirlanda e anche il rametto. Questa ghirlanda può essere usata intera, oppure potete tagliarla, dove ci sono i punti di giunzione dei rametti principali, e avere dei rami in più per abbellire, come farò io adesso, per abbellire la ghirlanda principale. Questo è un trucchetto che ci ha insegnato Marika anche. Questa è una. Questo quindi adesso possiamo anche metterlo qui. Poi mi ero presa, come colori, avevo preso dei cartoncini della Taylor Red Expression. Questo qui è lo Spermint, questo qua è il Basil, e questo qui è il Raspberry. In realtà, dato che ho già l'oro rosa e il rosa, magari non lo uso, userei forse questo verde qui, lo taglio in tutte e due, vediamo poi quale ci piace di più. D'accordo? Lascierei solo fuori il rosa, perché all'ultimo poi ho deciso di usare il remida oro rosa, quindi non ha tanto senso. Taglio un pezzetto di tutti e due. E faccio gli stessi tagli. Praticamente. Quindi. Così. E al centro, magari, di questa ghirlanda, sulla carta, farò una timbrata. Dovrei ancora riuscire a farla tranquillamente con il blocchetto d'acrilico. Non ho pensato di farla prima, perché non sapevo neanche di preciso dove mi si sarebbe posizionato. Quindi, è tutto un po' in progress. Questo lo mettiamo qui e questo lo metto. Poi, se mi servono altri ritagli, tutta la carta che mi serve. Facciamo fare avanti e indietro anche qui. Stacchiamo delicatamente, perché non vorrei romperla. Perché magari qualcuna mi servirà anche romperla, però, per ora. Ok. Allora, mettiamo queste qui nella big, che magari poi decido che ho bisogno di tagliare qualcos'altro. Ma lo decido l'ultimo. E riprendiamo la base del quaderno. Questa. E qui ci sono i due pezzi di vellum che abbiamo tagliato. Che in realtà potrebbero anche essere leggermente rifilati e quindi lasciare al centro più spazio. Vediamo che ingombro ha la ghirlanda. Potrei anche lasciarli interi così, in realtà. La ghirlanda la potrei... Scusate, mi sono caduti tutti i rametti. La potrei tagliare in realtà in questo verde qui, che mi piace di più. Ne potrei tagliare un altro paio e poi arricchirla con dei rametti. E metterci dentro qualcosa di oro rosa, che credo che sia la soluzione più bella alla fine. Cosa ne dite? Cosa ne pensate? Io ne taglio almeno un'altra, così. Con qualche altro rametto, perché forse l'altro verde, lo spermento è troppo lontano. Questo basil è veramente molto molto vicino come nuance, mi piace molto. Prendiamo l'altro foglio, che così posso tagliarla intera. Così. Così ne taglio anche altre due. E mettiamo poi qualche rametto oro rosa. E al centro di questa qui farò la timbrata. E userò il set di timbri, che è coordinato alle carte piolide. Tra l'altro le carte piolide, che si aveva scritto ieri, sono arrivate di nuovo tutte. Ci sono anche i kit pronti. Qualche carta sta di nuovo scarseggiando, ma dovrei riuscire a riaverla in settimana. E tiriamo fuori la seconda ghirlanda. Secondo me potrei farne anche una terza. Vediamo. Tiriamo fuori questa indenne, intanto. Ok. Così. I rametti servono a renderla... Poi le incolliamo bene, però servono a renderla più panciuta. Una volta che lì si ferma, la resa, vi giuro, è completamente diversa. E in mezzo ci potrebbe essere qualcuno di questi, che tagliamo anche da qui. Ok. Io mi taglierei un'altra ghirlanda ancora intera. E vediamo. Oro rosa ovunque. Sì, l'oro rosa è una malattia. Sono assolutamente d'accordo. Allora, tiriamo fuori la ghirlanda e vediamo di iniziare a sovrapporle. Intanto ci tagliamo anche quell'oro rosa, in modo da avere più rametti. Ho le mani tutte remidizzate. Che non è un male, eh. Allora, questa qui, che secondo me è da mettere intera e troppa. Allora, iniziamo a fare due cose furbe, intanto. La colla solo sul bordo. Questi li lascio svolazzanti. Poi vedo se fissarli, ma credo che li lascerò così. Ok, ho tagliato male l'angolo, che non coincide. Probabilmente. Ok, così. Questo adesso vediamo se accorciarlo ancora, farlo diventare una cosa così, che magari è un pochino più discreto. E qui avremo la nostra ghirlanda verde, che sarà la base. Chissà se questa rosa... No, no. Questa la tagliamo a rametti. Tipo così. Questa qui la spezziamo. Vedete? Ci sono dei punti di giunzione, che possono essere tagliati e vi consentono, magari con le forbicine più piccole, faccio meno fatica un po', e vi consentono di avere i rametti singoli in un unico taglio. Questo qui. Questo qui io lo taglierei qui. Quindi, questo qui, qui, questo lo tagliamo qui così, e così avete un sacco di rametti per arricchire qualsiasi ghirlanda voi stiate facendo. Ok, allora iniziamo a fissare, dobbiamo iniziare a fissarne una, perché sennò non riesco a posizionarla. Quindi mettiamo dei punti di colla qua e là. Non ne metto tanti, perché in realtà mi piace che rimanga un po' svolazzante. Ok. Lei sarà ferma lì. Iniziamo a mettere qualche rametto qua e là. E per parcondicio ne mettiamo uno sotto. Qui. Mettiamo un'altra ghirlanda sopra, con qualche punto di colla qua e là. Che potrebbe essere... Così. Ancora qualcosa di rosa, di oro rosa. Potrebbe venire fuori da qui. E magari questa potrebbe essere infilata qui così. Vediamo la terza qua su. E infittiamo con questi. Sto cercando di mettere poca colla, ma forse ne sto cercando di mettere veramente troppo poca. E poi se ho bisogno mi taglio degli altri rametti. Questa qui la mettiamo qui. Andiamo a cercare di renderla un pochino più tondeggiante. Io guardando attraverso il telefono faccio un po' fatica, ma... Così. Questa qui oro rosa potrebbe non star male qui. Un altro dettaglio, questa si è spostata troppo. Aspettate, un po' più di colla. E questa allora la possiamo spostare. E la possiamo mettere magari... Che segua il senso qua. Così. Poi ho ancora questo. Che potrebbe chiudermi qua. Che dite può andare? Più o meno. Qui sotto. Qui sotto questo. Così magari è un po' troppo grande. Io rifilerei. Proviamo a rifilare un centimetro da ognuno dei due lati a vedere come viene. Poi vedo se tagliarmi un altro paio di rametti verdi. Allora, un centimetro di qua e un centimetro di qua. Vediamo com'è. Mi è caduto il piedino del piatto di Tim. Così. Sì. Perfetto. Mettiamo un goccio di colla. Tre ghiarne soleilate. Se devi per questo livello mi puoi timbra. Poi me lo leggo tutto il commento perché me ne appare solo un pezzo. E non ho capito. Rossella. Poi me lo leggo tutto però. Ok. Mi servono un altro paio di rametti. A uno per esempio ce l'avevo qua. E potrei usarlo qua così. Allora, mi serve una timbrata lì in mezzo. Prendiamo un secondo il mio timbro. Dovrei averlo preso prima. Quando sono andata in sedizione di là. L'ho lasciato lì. Forse già qui sul tavolo. Aspettato perché l'avevo preparato ieri. No. Ma veramente? Ho dimenticato anche quello? Allora, io metterei una timbrata qui al centro. E in realtà qui forse nient'altro. Nel senso che altri rametti forse non li... Bah, mi avanza ancora questo. Ma magari diventa un po' troppo. Questo è in senso contrario. Dovrebbe essere così. Ma questo ci potrebbe stare in realtà. Sì, la ghirlanda è così. Per la laurea assolutamente le fai rosse. Ci metti un po' di glossi. Mettiamo qualche punto di colla. Ok, fatemi andare a prendere il timbro. Facciamo la timbrata lì al centro. Eccolo qui. Potrebbe essere. Vediamo se ci sta Enjoy the Winter Breeze. Sembra fatto apposta. Vediamo se riusciamo a timbrarlo. Attraverso la ghirlanda. Ci proviamo. Siamo temerari. Allora, siccome è un quaderno. E sotto non c'è niente. Metto la mano. E spero. Perfetto. Ok. Questo è venuto benissimo. Potremmo quasi quasi fare anche delle timbrate con gli alberelli. Poi magari lo riempiamo troppo. Anche solo una rennina qui. Con una timbrata di seconda generazione. Magari. Facciamo una prova. Le timbrate di seconda generazione sono quelle che vengono fatte con il residuo di inchiostro sul timbro. Per esempio, io inchiostro. Inchiostro bene. Questa è la timbrata. Questa è una timbrata che fa schifo. Però. Questa è la timbrata di prima generazione. Questa è la timbrata di seconda. Questa è la timbrata di terza generazione. E così via. Vedete che dà quest'idea di fading. Quindi, io posso fare la mia timbrata di prima generazione qui. Fare la seconda timbrata di generazione lì. La timbrata di seconda generazione lì. E usare gli alberelli. Potrebbe essere questo. Allora, io non mi sono fatta il December Daily vero e proprio. Perché intanto non riuscirei sicuramente a stargli dietro. Ma questa cosa che vorrei fare. Così, vedete. Voilà. A posto. Nient'altro. Questa cosa che vorrei fare con questo quaderno. È quello di mettere dentro una serie di ispirazioni. Non lo so. Un giorno vedo una palette di colori che mi piace. Magari ci realizzo un pannello di una card. E poi lo metto qui dentro. Una cosa che mi sono presa. Che sono queste bustine qua. Qualcuno le avrà viste. Nel Project Life. Sono queste bustine. Adesso qui devo rifare i buchi. Che sono dei porta memorabilia. Quindi qui dentro ci posso mettere regalini, biglietti. Qualsiasi cosa io voglia conservare. L'unica cosa che devo fare adesso è foderarla. Ma guardate, lo facciamo subito. Quando abbiamo un binder che non ha le misure che ci occorrono per... Quando abbiamo qualcosa da mettere in un binder che non ha le misure corrette per gli anelli. Semplicemente si fa così. Si prende un pezzetto di carta. Vediamo se mi basta questa. Me ne servirebbe un pezzetto un po' più largo. Da qui non li ricavo due. No. Possiamo prendere un bianco. Cosa mi è avanzato? Vediamo qui se ho qualcosa. Potrei avere la mia carta per esempio. Ah ma guardate. Ho il pezzo di cassis che è avanzato da prima. Misuro. Sono sei pollici e un quarto per un centimetro e mezzo. Facciamo un centimetro. Quindi due centimetri. Allora. Io faccio così. Mi hanno insegnato a fare così. Sei pollici e un quarto. Scusatemi. Che è qui. Per due centimetri. Facciamo due centimetri e mezzo così un pochino più abbondante. Questo lo piego a metà. Quindi in realtà due e mezzo e uno virgola venticinque. Poi faccio una piega. Se non è precisissima non importa. Perché quello che dobbiamo fare poi è incollarlo qui. Allora. E poi fare i fori secondo la misura che ci occorre. Vedete? Adesso siccome questa è plastica. È un salvadanaio l'altro. Siccome questa è plastica ci metto del biadesivo. E poi anche un pochino di colla. Lo metto direttamente qui sulla carta che ho tagliato. E magari lì dentro ci faccio dei mini layout. Semplicemente delle... Anche dei layout senza foto. Quindi delle composizioni magari con gli scarti. Dei progetti che faccio. Ho visto un sacco di cosine interessanti. Che mi piacerebbe replicare. Ma che probabilmente per fare un progetto intero. Non riuscirei mai per una questione di tempo. E invece in una cosa così. Posso permettermi di farlo. Ok. Adesso. Questo voglio che sia più o meno al centro. La misura della larghezza è perfetta. Mi faccio qui. I miei due fori. Vediamo se riesco. Non so se riesco con questa. Perché forse la plastica è un po' troppo dura. Ma io ci provo. No, infatti non ci riesco. Ma abbiamo qui la big bite. E lo facciamo con la big bite. Ok. Uno. E due. Ecco. E lo mettiamo qui. Così. Vedete? Perfetto. Io adesso in realtà qua ho anche un pezzo di vellum che mi avanza. Con cui potrei decorare. Con cui potrei ritagliare. Da cui scusatemi ce la posso fare. Potrei ritagliare questi fiori. E decorare questa bustina. Facciamolo con questo qua per esempio. Poi ho tutto il tempo con la carta che mi avanza. Di decorare la copertina interna e quella esterna. Insomma ci sono tante cose che posso farci. L'idea è di fare un video tutti i giorni in cui in ogni video faccio una paginetta. Che sia un layout, un mini layout perché questo formato è proprio piccino. Che sia un pannello di una card. Lo lascerò qui. Allora, questa è una taschina ulteriore. Vedete qua si apre così. E questa, se riesco a metterci le mani, è un'altra taschina. Quindi questo fiore qui lo incollo qua. Solo su questi due bordi qui. Di modo che non mi disturbi la tasca. E questo poi si incolla così. Queste bustine le trovate sul sito. Sono arrivate l'altro giorno. Le ho prese apposta per questo progetto. E questo è quanto. Qui ci starebbero bene forse dei nuvo rossi. Tra uno e l'altro. Che potremmo anche fare. Se abbiamo il nuvo. Adesso vediamo. Vediamo se abbiamo il nuvo che va bene. Lo facciamo subito. Allora, abbiamo l'Autumn Red. Che torna questa settimana. Facciamo un paio di bacche. Facciamo prima una prova qui. Ok. Le facciamo qui un paio di bacche. E poi non lo tocchiamo più. Almeno fino a domani. Però guardate come con qualche dettaglio. Con pochissimi dettagli. In realtà prende proprio vita. Se poi riuscite a non spattasciarli. In uvo ovviamente è ancora più bello. Se poi mi fate sapere come fate. Le stelline adesso le prendo. Ne mettiamo qualcuna qua in giro. Brava. Me ne stavo dimenticando. Brava Patrizia. Ok. In silenzio rigoroso. Perché? Questa bustina sono. Queste bustine di Project Life. Il codice è questo. 380 028. Ce ne sono 5. In ogni confezione costano 10,50. Sono praticissime per questo tipo di lavori. Allora. Queste sono le stelline. Fatemi spostare un secondo questo. Prima che io ci metta le mani sopra. E allora vorrei anche togliere la big. La mettiamo un attimo. Allora. Potrebbero essere più asciutte. Vedete? Adesso ne stacco qualcuna. Delicatamente. Vedete? Vengono via. E sono degli abbellimenti che noi possiamo usare per abbellire ciò che più ci piace. In questo caso ne metterò qualcuna su questa copertina. Che potrebbe essere un layout. Potrebbe essere la copertina di un album. Potrebbe essere il pannello di una card. È un po' questa l'idea. Io mi farò questo quaderno. Saranno una serie di spunti che potrò usare io. Che potete usare voi. Insomma. Sono a disposizione di tutti. Di spunti per delle cose da fare adesso per Natale. Magari in alcuni metterò anche delle foto. Perché no? Però il mio progetto di Natale sarà questo. Everyday. Questa l'ho rotta. Quindi quando vi dicevo fatene tante. È per questo. Allora in realtà se le lasciate asciugare tanto. Saltano proprio via. Io non ho dato così tanto tempo di asciugatura. Quindi in realtà ci sta che qualcuna mi si rompa. Però me ne servono veramente pochissime per fare quello che voglio fare. Quindi prendiamo anche queste qua piccine. Che sono meravigliose. Così. Questa. E poi vediamo se ce ne servono altre. Per ora. Ok. Riprendiamo la copertina su cui stanno riposando in uvo. Ricordatemelo ogni tanto. Goccino di colla. E decidiamo dove metterle. Allora. Per esempio. Proviamo a vedere se con la katana riesco a tirarle su. No? Perché sono troppo fresche. Ma vabbè. Una. Lì ne mettiamo una più piccina. Questa media la mettiamo qui. Così. Poi ne mettiamo un altro paio qui. Qui. Questa non viene su con la katana. La tiriamo a sua mano. E ne mettiamo una più piccina. Lì. Ok. Poi ne ho un paio piccole piccole piccole. E direi che è a posto. Sono riuscita anche a non intaccare nessuno dei nuvo. Va bene così. Non la tocchiamo più. Cosa dite? Io dico che ho perso il tappo della nuvo. Che non è una cosa positiva. Eccolo qua. Spazi bianchi mai. Non ne la posso fare Nadia. Prima o poi riuscirò a fare anche io uno di quei lò dove c'è tantissimo bianco. E sarò orgogliosissima di me. Per ora. Non sta funzionando tanto questa cosa. Allora. Brilligel su carta da forno. Ghirlanda tagliata in. Nel basil. Della Taylor Red Expression. E nel cartoncino di Tommaso. Ricoperto di remida oro rosa. Questo è il mio vellum della collezione. Happy Holidays. Sono tornati tutti i fogli. Quindi li ritrovate tutti sul sito. Questo è il brillo gel. Polvere di fata. Questo qui è il timbrino della collezione. Happy Holidays. E ritiriamo fuori il novembre. Che è ancora da finire. Perché non mi trovo più il set dei mesi. Ma adesso lo troveremo. Perché appena chiudo mi metto a cercarlo. Vi ricordo che trovate sul sito il prodotto contenitore per l'album. Il tab album che faremo il 14. Qui in negozio. Con la collezione Winter Farm House della Simple Stories. Potete ordinare ciò che vi manca. Se avete già preso qualcosa. Trovate le quantità di tutto ciò che serve. Io quel progetto lo rifaccio il 15. Che è la domenica dopo. Che altro dirvi. Questo è il progetto di Metwell Taste di novembre. A breve arriveranno tutte le cose per quello di dicembre. Quindi spererei di riuscire a spedirveli tutti prima di Natale. Che altro raccontarvi. Ci vedremo. Spero di riuscire a mantenere questa cosa tutti i giorni. Per il mio quaderno. Delle cose di Natale. Dove ci sarà di volta in volta anche solo un progetto piccolo. Quindi magari qualche volta sarà veramente un qualcosa che si mette insieme in dieci minuti. Però lo vorrei riempire. Vorrei farne uno al giorno. E vedere come arrivo poi a fine mese. A Natale. Direi che per oggi è tutto. Vi ho ammorbato abbastanza. E ci vediamo domani. Buona domenica. Ciao ciao.